Che squadra, che squadra che siamo, 1-0, 1-0 poteva finire di goleata anche oggi, ma non è stato così, 1-0 ma va bene così, mettiamo pressione ai nostri cugini dell'Inter, primi in classifica però con una partita in più, l'Inter deve ricoprare una partita quella del Bologna, però, però, ricordiamo Che settimana prossima noi abbiamo la Serenitana, ma loro in casa hanno il sassuolo, il sassuolo può mettere difficoltà all'Inter, tutto può accadere, tutto può accadere, comunque, parliamo della partita, una partita vinta meritatamente per le occasioni create, forse è un primo tempo un po' noioso, solamente due tiri in porta con gol di Leao, ragazzi Leao, meravigliau, Rafa Leao, meravigliau, un giocatore fantastico, un giocatore strepitoso, un bel gol, un bel gol che è partito tutto dal lancio lungo, dalla propria area Magnan, che è qui in piedi ragazzi, questo è un fenomeno con i piedi, noi abbiamo trovato un portiere Che può fare anche il regista, lancio lungo, verso Leao, a sinistra, arriva in velocità, salta, il giocatore della stampa, entra in aria e tiro a giro, tiro a giro sul pallo più lontano, 1-0 Un gol bellissimo, spettacolare, decimo gol stagionale con la maglia del Milan, decimo gol stagionale con la maglia del Milan Sta continuando a essere più decisivo, continua a segnare ogni partita che gioca, cioè un mostro, ce lo dobbiamo tenere stretto Poi Assamp prova a metterci in difficoltà ma non riesce mai a tirare verso la porta del Milan Complimenti ancora a Romagnoli che oggi ha giocato una partita strepitosa Un'altra partita perfetta al capitano, è ritornato anche Tomori dopo un mese di stop Cioè un mese, due o tre settimane di stop dopo che si è operato al ginocchio E ha giocato perfettamente anche lui, c'è la fase difensiva E' vero che si è rotto Kier, però chi ha giocato? Romagnoli di fianco a Tomori o Calulu Hanno fatto veramente, veramente bene Hanno fatto un applauso Assamp che oggi non ci ha messo in difficoltà Invece noi, anche noi, abbiamo fatto più un giro palla Però non riuscivamo a tirare manco noi Manco un tiro da fuori Poi abbiamo fatto così, dei tiri calciati male diciamo Poi la palla a gol del 2-0 abbiamo avuto con Messias Dove Falcone, ogni portiere che affronta il Milan diventano fenomeni Diventano fenomeni Falcone fa un miracolo molto sicuro di Messias al volo di potenza Con la manona aperta Con la manona aperta la manda in corner Una grande parata Finita il primo tempo Il secondo tempo inizia come era iniziato il primo tempo Il Milan che propone e attacca Abbiamo avuto una palla a gol con Messias Col piattone largo così poco Largo così poco Poi abbiamo avuto un'altra palla a gol per il 2-0 Con Giroud in rovesciata In rovesciata Stava per fare un euro goal Giroud in rovesciata E ancora lì Falcone Poi un'altra con su Su Rebic Fa un altro miracolo su Rebic Ancora su Giroud Su un cross colpo di testa Oggi Falcone ha parato di tutto A Giroud A Rebic A Messias Un'altra occasione su Messias Oggi ha parato di tutto Poi anche noi Che abbiamo divorato dei gol assurdi Perché Sul 1-0 La partita la devi chiudere Perché sennò Dischi di prendere Poi a quel posto La Samp Il primo tiro in porta L'ha fatto con Candreva Quando si è inserito in aria Ha un tiro di botta sicura Ma non para in due tempi Niente Ma la Samp Che Non ci ha messo Così tanta difficoltà Bene a centrocampo Bene alla difesa Una partita Perfetta e pulita Dei nostri ragazzi Anche chi è entrato Dalla panchina È entrato Con l'atteggiamento giusto Che sì Salamakers Rebic Eppure Krunic Eppure Krunic E anche Calulu Cioè hanno giocato perfettamente Anche i panchinari E questo Significa che siamo veramente Gruppo Squadra Significa anche Una cosa Che tutti quanti Abbiamo un obiettivo Vincere il campionato E quello è Siamo primi È vero L'interno è una parte meno Però Intanto Mettiamo pressione Pressione siamo lì Non abbiamo Nulla Da perdere Nulla Da perdere Comunque La prossima volta Questi 1-0 Qua Quando divori Troppi gol Bisogna un po' Chiudere la partita Ragazzi Perché se no Rischi Oggi c'è andata bene Perché abbiamo giocato Molto bene Abbiamo difeso Però la Samp Ha avuto qualcosina Ma poi Siamo stati Siamo stati bene Noi in difesa A non concederli Tanto Così tanto Non ci hanno messo Tanta difficoltà Però quando Mettevano un pallone Un cross Entravano in area Di rigore Abbiamo un po' Rischiato Ma come ho detto prima Romagnoli e Tonori Oggi una coppia Perfetta Sono stati Non hanno Lasciato niente Agli attaccanti Della Sampo Niente Caputo Poca roba Ma vanno meriti Anche a Pioli Perché la Pioli L'ha preparata Tatticamente Perfettamente Questa partita Come quella Contro la Lazio Come contro la Lazio Adesso pensiamo Alla prossima partita Sabato Con la Selenanditana Perché anche quella È importantissima Perché noi giochiamo Prima Prima di Inter E Napoli Giochiamo le 8.45 Vincendo Li mettiamo Un po' Di pressione Entrambe E anche Un suono Di campanello Di allarme Perché ci siamo Anche noi È il nostro obiettivo Bisogna Crederci fino in fondo Per lo scudetto Io ci credo E lo dico Che lo vinceremo pure Forza Milan Forza ragazzi Commentate Mettete Mi piace Alla prossima ragazzi Forza Milan